con la nostra stampante a trasferimento termico andremo a creare delle etichette molto sfiziose realizzando la stampa più colori vi ricordo che possiamo stampare su etichette bianche sia in carta che in plastica su etichette precolorate su nastri in raso su etichette di qualsiasi forma anche circolare su etichette trasparenti andiamo a vedere la stampa più colori il processo di stampa è veramente velocissimo in questo caso per dare tre colori si tratta di eseguire tre passaggi differenti rimandiamo indietro le etichette in macchina quindi nel secondo passaggio con un altro colore andiamo ad inserire la seconda parte della grafica la stampa bicolore può essere realizzata anche su moduli continui come pettucce di nastro quindi siamo adesso al primo passaggio abbiamo dato loro abbiamo mandato indietro il nastro avevamo preventivamente segnato una tacca di riferimento come inizio stampa e andiamo a effettuare il secondo passaggio con un colore che stacca per esempio il nero e creiamo dei nastri comunque veramente carini con cui poter realizzare confezioni personalizzate inserire il nostro logo e tutto quello che ci può derivare dall'utilizzo di un nastro personalizzato vediamo un percorso analogo su un'etichetta bianca andiamo a stampare il secondo passaggio vedete comunque è un processo assolutamente veloce ma andiamo indietro di nuovo il rotolo di etichette e andiamo a completare l'etichetta con il terzo passaggio gli abbiamo così creato in pochissimo tempo un'etichetta veramente carina e particolare oro fucsia e nero una stampante a trasferimento termico può realizzare delle grafiche anche molto complesse dai profili anche sottili irregolari e variegati ecco l'associazione del blue metal con l'argento possiamo veramente creare etichette divertenti per qualsiasi occasione quindi con una stampante a trasferimento termico siamo stati in grado di produrre anche etichette con più colori noi sappiamo la stampa a trasferimento termico è monocromatica ma facendo più di un passaggio ma in maniera assolutamente facile e veloce possiamo creare etichette veramente fantasiose per le nostre confezioni se siete interessati ad una soluzione di stampa rapida economica e veloce contattateci ai nostri riferimenti